un silo facciamo un silo si ma la collo facciamo un bel silo dove all'interno poggiamo 450.000 per il culo facciamo un altro garden va bene sto spendendo soldi a caso però ridaranno queste cose rifrutteranno tranquilli poggiamo questo è la dentro ora c'è il problema di tutti questi qua mamma raga mamma no raga ce n'è troppi dobbiamo automatizzare al più presto tutte queste cose si perchè le cose si possono anche automatizzare quindi è una cosa molto buona perchè evitiamo ogni volta cioè posiamo il cibo loro lo danno e loro raccolgono tutte le cose quindi evitiamo anche ogni volta di fare questa brutta vita allora la abbiamo messo le cose per questi qua che quelli di là di luna ok quanto ancora sono a 6 si sono bloccati il loro prezzo è sceso perchè ne ho ah si è attivato raga 7 4 e 3 restart mission ogni quanto e ricevo oh cazzo oh cazzo raga questa la dobbiamo fare dobbiamo cercare tutti questi così però innanzitutto vendiamo raga perchè riceviamo veramente molte cose riceviamo 12 di quelli della luna 13 stoni en così magari cominciamo a farmare pure le galline così da dare a mangiare pure sempre non dare a mangiare sempre questo anche se è il metodo più facile per farmare allora qua c'è un altro andiamola a vendere bam no ho tirato la carota hop e qua c'è un altro poco fruit va bene quindi che cosa devo prendere 4 di questi 3 di quelle brutte allora qua prendiamolo e lo buttiamo qua dentro qua ce n'è ancora raga vabbè sinceramente mi secca allora stanno crescendo quindi dobbiamo aspettare questi 4 nel frattempo andiamo in ricerca di quello qua per alzare tempi a 350 che palla le dovrei prendere magari prendiamo questo no 1 2 3 questo ok però non ce la faccio solo con questo no no dovrei mettere altri là no non lo so quindi io questa meccanica del gioco l'ho un pochettino capito un pochettino no va bene diamo da mangiare solo a questo mangia mangia sei salse mangia non le mangi le carote va bene dammi questa carota fra un poco questo si leva non ho capito arvestable time significa che in quel tempo si leva però crescono più volte capito quello del loro sta scendendo che palla raga ma quello del loro come si trova cioè in dove più che altro allora dovrei andare a cercare quello però bisogna di alzare le mura perché questi mi escono eeeh non so che a vendere vabbè andiamo in giro magari troviamo in giro quelle cose cioè tutto cioè le pink floyd come i ragazzi si chiamano così no raga se li stanno andando a mangiare dammeli a me ah no vabbè mangiato così mi hai dato magari le cose c'è un po' c'è un po' cazzo l'avete sentito sarà è il mio gruppo di continuità che palle ragazzi si no 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 ciao no ciao ragazzi si finalmente li abbiamo ottenuti finalmente si sono accoppiati ne abbiamo due ok prendiamolo eeeh il gatto mi serve mi serve mi serve non so che fare non so che fare poco frutti poco frutti attaccate 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 eeeh prendiamo questi no raga no no dov'è 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 dove sono dov'è il gatto ok rock questo lo tiriamo e questo me lo prendo non ce n'è altri no vabbè io mi prendo un altro di questi vabbè possiamo tornare indietro anche se noi dobbiamo dare 6 non ce n'è proprio più vediamo facciamoci un giro magari qua non c'è niente cioè non possiamo prendere nemmeno questi vabbè eeeh ritorniamo indietro magari poggiamo i rock slime e poi i tabby slime li mettiamo assieme no perchè si accoppiano e questo è il brutto non li possiamo mettere assieme non possiamo mettere assieme niente ah c'è un problema ovunque ok ora dobbiamo andare a prendere tutte queste cose eeeh le carote dovrei fare un silo per contenere le carote che ne abbiamo troppe ok eeeh possiamo il rock slime qui va bene e mi prendo questa tu lì e io mi prendo questo questo lo vengo ho sbagliato mira ah ma qua ce ne tre di quante volte ho sbagliato mira uno due tre va bene 344 raga ce la possiamo fare a fare anche questo vediamo cioè se ci riusciamo mi sembra una cosa molto ma molto difficile allora ma questi di qua si accoppiano pure si giusto si accoppiano ok prendiamo tutti questi di qua che ci abbiamo dato cioè che volevano prendere e qua mangiate questi mangiate questi vabbè ok ne abbiamo 8 11 12 non ce n'è più no non ne vedo più acqua ce n'è un altro 13 14 la ce n'è un altro va bene a posto torniamo indietro vendiamo tutta questa roba e magari ora possiamo alzare il coso si lo possiamo alzare perchè a 350 li superiamo di bella ok 428 ragazzi possiamo alzare come possiamo fare cercare di fare qualche altre cose autofeeder 500 dobbiamo arrivare a 1000 raga dobbiamo arrivare a 1000 per appunto fare questo però intanto alziamo le mura perchè così evitano di uscire diamoci un paio di carote a questi magari ce ne teniamo un paio non so perchè sto facendo così va bene ce ne teniamo una qua ancora non stanno crescendo se le saranno mangiate qua ce n'è una ok se le mangiate questo lo so io lo so allora buttiamolo la dentro vediamo se ce la fa no vabbè che magari ce la facevi allora la si sono cresciute le qberry quindi prendiamole e vediamo qual è il cibo preferito dei di come si chiamano di questi cioè degli slime rock rock slime earth bit quindi saranno questi gli earth bit giusto mi pare di si e il cibo preferito di questi e i qberry però i qberry li possiamo dare anche a questi quindi si li possiamo dare va bene diamo tutti i qberry ok diamo anche queste due carote eh poggiamo questo qua dentro lo tiriamo qua dentro e appena finito di mangiare tutto prendiamo tutto prendiamo tutto cominciamo ancora penso che non devono mangiare vabbè io prendo tutto ok prendiamo tutto 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 pink slime pink slime ok ok ora tiriamo i pink slime e ora stiamo rivenendo e prendiamo di nuovo delle altre cose quindi con questi dovremmo fare 120 money perché appunto l'hanno abbassato il prezzo 6 si ancora non si abbassa cioè non si alza e per ora che resta fisso cerchiamo di venderne più possibile cioè dovevamo cercare di venderne subito però non ce l'abbiamo fatta e quindi attacchiamoci al tram ok fatto tutto cioè le ho prese tutte queste ancora devono mangiare va bene poggiamo tutti gli slime le potremmo portare altri però no 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 cioè poi troppo casino va bene 228 ci mancano un bel po' di money still up up morning ok dormiamo appunto ritorno torrencio fatto e ora che cosa dobbiamo fare ora questi stanno ancora continuando a mangiare qua le carote sono spuntate si cazzo raga sono spuntate pure il cibo preferito dei dei rock slime quindi mi fa felice perché danno di più l'oro va bene dammi qua e dammi anche tutti questi mamma quanti poco fruit allora ora vediamo quanto manca per questi 3 minuti allora io una carota me la tengo va bene e per questi quanto manca altri 13 minuti quindi a questi ovviamente mi sembra pure normale che non ce li devo dare tutti va bene ce ne diamo così dovrebbero bastare mangiate non sono questi non sono questi il vostro cibo preferito oh cazzo allora vediamo qual è il vostro cibo preferito non sono in poco fruit online rock slime earth bit quali sono gli earth bit raga non è che io